Uno dei problemi più grandi per chi si avvicina al mondo del trading online sicuramente è il capitale perché capite bene che fare trading con un capitale di 500 euro è completamente diverso di fare trading con un capitale di 100.000 euro dove ci basta solamente fare un 1% per guadagnare cifre abbastanza interessanti ed è proprio per questo che all'interno di questo contenuto voglio parlarti di 4 metodi che puoi andare ad utilizzare per poter andare a fare trading senza avere obbligatoriamente 100.000 euro da investire all'interno del tuo conto e sicuramente per quelle persone che sono partite da poco all'interno di questo mondo queste sono le soluzioni migliori perché soprattutto all'inizio è normale sbagliare e perdere dei soldi il primo metodo che puoi andare ad utilizzare per guadagnare dei soldi attraverso il trading senza capitale è sicuramente diventare un fuffa guru e vendere dei corsi beh ovviamente sto scherzando il primo metodo è quello di andare ad utilizzare piattaforme che ci danno la possibilità di ricevere del capitale in gestione infatti all'interno di questo video vi darò la possibilità di poter sfruttare 4 tipologie di piattaforme parliamo della prima piattaforma una delle piattaforme che sono andato ad utilizzare io e che già vi ho portato all'interno del canale è proprio la piattaforma di Axi Select e tranquilli ragazzi perché dopo vedremo anche altri metodi molto interessanti e ovviamente i metodi che vedremo all'interno di questo video sono metodi che possono essere utilizzati con bassissimo capitale non esistono metodi gratuiti per poter andare a ricevere del capitale per fare trading infatti la piattaforma di Axi Select ragazzi dà la possibilità di ricevere fino ad un milione di dollari in gestione con un profit share fino al 90% e possiamo iniziare con solamente 500 dollari di capitale infatti quello che bisogna fare è avere un account all'interno di Axi Select vi lascio il link in descrizione eventualmente per dargli un'occhiata e una volta effettata la registrazione e dopo aver fatto un conto di 500 dollari avremo la possibilità di poter partecipare ad Axi Select dove facendo trading con il nostro conticino di 500 dollari raggiungendo un profit target del 5% avremo un moltiplicatore sul nostro capitale quindi in questo caso andando all'interno della fase di Incubation avremo un moltiplicatore per 10 quindi quei 500 dollari dobbiamo moltiplicarli per 10 andremo a fare trading sul nostro capitale piccolino di 500 dollari e in automatico si andranno a copiare all'interno del capitale che riceveremo in gestione in questo caso i 500 dollari moltiplicati per 10 e così via ragazzi fino ad avere un moltiplicatore di 250 e andando a superare queste fasi ossia il 5% di target e dei giorni minimi di trading e il massimo drawdown che potremo ricevere del 10% qualora andremo a ricevere un drawdown del 10% ci scaleranno di fase ad esempio se ci trovavamo nella fase Pro 500 passeremo all'interno della fase Pro e attraverso questo metodo possiamo andare a scalare quello che è il nostro capitale e ricevere potenzialmente fino ad un milione di dollari in gestione ovviamente ragazzi tutto ciò non è semplice richiede un po' di tempo ma sicuramente per quelle persone che hanno pochissimo budget possono andare ad utilizzare queste piattaforme per ricevere del capitale in gestione e i 500 dollari che andremo a depositare all'interno di Axi Select possiamo andarli a prelevare in qualsiasi momento quindi non pagheremo nessuna fee di iscrizione questa è una delle alternative completamente gratuite ovviamente in parte vi lascio tutti i riferimenti in descrizione per andare ad approfondire perché ci ho realizzato dei video dedicati e soprattutto dettagliati passiamo al secondo metodo che sto andando ad utilizzare anche io parliamo della piattaforma di DarwinX0 ragazzi che ci dà realmente la possibilità di poter ricevere milioni in gestione con non solamente 38 dollari al mese di investimento quindi cosa bisogna fare? possiamo vedere che ci sono addirittura persone che in questi pochi mesi hanno ricevuto 605.000 euro in gestione e guadagnano il 15% di profit share su quello che riescono a generare ragazzi senza investire neanche un centesimo l'unica cosa è abbonarsi alla piattaforma infatti dopo aver fatto l'abbonamento a DarwinX0 riceveremo un conto di 100.000 euro su questo conto di 100.000 euro ovviamente andremo a farci trading e ogni mese in base a quelle che sono le nostre statistiche riceveremo del capitale in gestione ad esempio possiamo vedere che questa persona attraverso DarwinX0 è riuscito a guadagnare 849.000 euro e in questo momento ha in gestione ben 26 milioni di dollari rischiando quanto? solamente 38 euro al mese quindi una cifra nulla rispetto a quello che si può riuscire a guadagnare infatti come possiamo vedere questa persona è riuscita a ricevere 500.000 dollari in gestione perché è riuscita a fare un rendimento dell'8.77% e perché è riuscita a fare questo rendimento e ha scalato le classifiche ovviamente di DarwinX0 riceve capitale in gestione in modo completamente gratuito tradando semplicemente attraverso questo conto qui che è tra virgolette demo per farvi un esempio ragazzi supponiamo che noi ci abboniamo alla piattaforma di DarwinX andiamo a tradare su questo conto di 100.000 dollari che ovviamente non sono soldi nostri quindi non rischiamo praticamente nulla solamente l'abbonamento di 38 euro al mese e se riusciamo a fare magari nel corso dei mesi un profitto del 10% e un rendimento nel mese corrente del 5% comunque noi riusciremo a ricevere 75.000 euro in gestione queste sono le classifiche e io ve la consiglio soprattutto perché all'inizio perché abbiamo la possibilità di andare a tradare su un conto dove non rischiamo i nostri soldi andando comunque a metterci l'impegno perché spesso e volentieri quando abbiamo un conto demo non ci impegniamo minimamente e facciamo praticamente delle stupidaggini quindi questa è un'opportunità molto interessante e per andare ad approfondire anche questo argomento vi lascio il link in descrizione del video che ho realizzato nello specifico insieme anche al link per iscrivervi a DarwinX ora passiamo al terzo metodo e rimanete incollati perché il quarto è un metodo molto molto interessante il terzo metodo riguarda ovviamente le cosiddette piattaforme di PropFirm conosco tantissime persone che attraverso le PropFirm ci hanno fatto una marea di soldi e soprattutto ho realizzato un'intervista ultimamente di un ragazzo che attraverso le PropFirm in un anno è riuscito a generare più di 800.000 euro di profitto attraverso il mondo delle PropFirm possiamo andare a ricevere del capitale in gestione ovviamente sappiamo che il rischio è molto elevato perché spesso e volentieri queste PropFirm chiudono da un momento all'altro però se dovessi consigliarvi qualche piattaforma abbastanza seria abbiamo Funded Next oppure anche FTMO per farvi un classico esempio ragazzi per ricevere in gestione 100.000 dollari all'interno della piattaforma di Funded Next quello che bisogna pagare è un costo di iscrizione quindi noi paghiamo in questo caso 549 dollari per andare a superare due fasi infatti inizialmente avremo una sorta di conto demo sul conto che riceveremo appunto in gestione dobbiamo riuscire a fare nella prima fase l'8% e nella seconda fase il 5% dopodiché riusciremo a ricevere un Profit Share fino al 95% bisogna fare 5 giorni di trading minimo e ovviamente non bisogna andare ad avere una perdita del 10% dopo aver superato queste fasi ragazzi riceveremo questo conto in gestione e ogni mese possiamo andare a prelevare quelli che sono i profitti ovviamente non è così semplice vi consiglio di andare ad approfondire richiede un costo iniziale che è un pochino elevato dipende dal conto che si vuole andare a gestire supponiamo un conto di 25.000 dollari bisogna andare a pagare 200 euro per iscriverci a queste fasi quindi dipende da piattaforma a piattaforma ma comunque è molto interessante perché ci permette di diminuire il rischio e potenzialmente con un investimento piccolo possiamo andare a ricevere dei capitali enormi per poter andare a fare trading se si sa fare trading potrebbe essere un'alternativa molto molto interessante ma prima di continuare voglio parlarti dello sponsor di questo video e non abbandonare questa parte perché potresti ricevere dei soldi gratuitamente infatti iscrivendoti a Bitpanda che è una piattaforma che ci permette di acquistare e vendere criptovalute potresti vincere un premio di 1000 dollari e queste sono le regole per poter partecipare a questa estrazione e avere la possibilità di vincere 1000 dollari Bitpanda in questo momento è una delle piattaforme più utilizzate nel settore delle criptovalute e ci dà la possibilità di poter andare ad acquistare cripto, azioni, etf, materie prime, indici e metalli tutto in un'unica piattaforma semplice ed intuitiva da utilizzare abbiamo anche una carta prepagata che possiamo andare ad utilizzare dove possiamo spendere i nostri profitti quindi se vuoi ricevere un fantastico bonus e utilizzare una delle migliori app ti lascio il link in descrizione ora passiamo all'ultimo metodo e non è quello di vendere dei corsi da Fuffaguru ma è quello di andare ad offrire la propria strategia di copy trading conosco diverse persone che attraverso tutto ciò riescono a guadagnare cifre molto interessanti è una di queste persone proprio Luigi che ho intervistato all'interno del mio canale che attraverso queste strategie all'interno di determinati broker riesce a guadagnare cifre molto interessanti e in copia in questo momento ha più di 10 milioni di euro possiamo vedere ad esempio che all'interno della piattaforma di FPMarket che è una delle piattaforme più utilizzate al mondo riguardante il trading online abbiamo migliaia di strategie di copy trading che possiamo andare ad utilizzare e per poterci andare a collegare a queste strategie bisogna pagare un profit share ogni trader ha un suo profit share supponiamo la strategia di Luigi ha un profit share del 50% e poiché in copia ha più di 10 milioni di dollari capite che se riesce a generare 100.000 euro di profit lo andrà a guadagnare 50.000 euro e capite che questo modello di business si può andare a scalare e chi ha una strategia ed è profittevole può offrire la propria strategia di copy trading infatti ragazzi per poter andare ad offrire la propria strategia di copy trading non bisogna avere obbligatoriamente capitali enormi semplicemente perché potenzialmente con 1000 euro all'interno del proprio portafoglio possiamo andare ad offrire la nostra strategia di copy trading e avere potenziali persone che si collegano è un modello di business molto molto interessante perché noi possiamo andare a fare trading con un capitale piccolino e sfruttare la leva di altri investitori che decidono di affidarsi alla nostra strategia e guadagnare commissioni molto elevate quindi andatelo ad approfondire vi lascio anche il link della piattaforma di FPMarket dove potreste andare ad offrire la vostra strategia di copy trading e andare a fare anche trading con bassissime commissioni quindi ragazzi questi erano alcuni dei metodi che una persona può andare a sfruttare secondo il mio parere per andare a fare trading con un pochissimo capitale ci sono anche dei pro e dei contro che bisogna prendere in considerazione però consideriamo che stiamo andando a sfruttare potenziali leve per poter andare a fare trading con capitali elevati senza rischiare capitali enormi se questo video è stato di vostro gradimento lasciate un bel like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina vi lascio tutti i riferimenti in descrizione io vi saluto e noi ci vedremo nel prossimo video ciao